Giocatore? Cos'è stato? Che succede? Scusami per il... ritardo. Hai per caso già mangiato? Perché oggi sai proprio di buono. Giocatore, ma che ti prende? Mangiati del cibo vero, maniaco! Sembri gustosissima. Devo trovare dove nascondermi. Ma cos'ha che non va? Mi stancorà... Ho fame! Non scapperai da nessuna parte. Ok, ragazza, forza, ce la puoi fare. E dai, apriti! Cosa c'è che non va in te? Porca paletta! Mi sono incastrato! Guarda un po' come cambiano le cose. Stupido aggeggio! Oh no! Ti prego, non farlo! Che succederebbe se lo facessi invece? Non tirare quella leva, guarda, mi dispiace! Guarda qua! Ma come osi? Fermalo subito! Oh no! Spegni! Ma cosa ho? Guarda che hai combinato! Ti prego, mami! Non sono più arrabbiato! Ti prego, fermalo! Ti scongiuro! Giocatore! Mmm, ma che bello dorino che c'è qui! Oh no! Vieni da mamma! Che pasticcio! Ma è il pianto di un bambino! Mami! Ma perché stai piangendo? Forza, vieni qui! Ma quanto sei carino! Forza, vieni con me! Andrà tutto bene! Shh! Dove è la mia mamma? Lo troveremo, piccoletto! Tu mi piaci! E anche tu mi piaci! La mamma è qui! Ti voglio bene, mami! Cosa? Io sono sua madre! Chi è costui? Ehm, penso che tua madre sia arrivata! Volevi portarmi via mio figlio! Non sapevo fossi rubabambini! Porca pignata! Volevo solo essere d'aiuto! A me non sembra proprio! Aspetta, ehm... Torna qui col mio bambino! Ah, accesso! Ridammelo subito! Wow! Che divertente! È così che vuoi giocare, eh? Ti stai sbagliando! Guarda che hai fatto! Mami! Lei è la mia mamma! Lo so e non mi importa! Buffissimo! Ma ora mi dai una mano! Non fare male a Mami! E se lo accendessi? Ti prego, no! Pensa al mio bimbo! No! Brava, ci hai provato! Ma non mi freghi! No, ti prego, spegnilo! Wow, si è rotto! Oh oh! Dai, stavamo solo giocando! Io non penso proprio! Anzi, sai una cosa? Era uno scherzo? Una burla! Ora sarò io a divertirmi con te! No, 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 no! No, no, no! Mi è amico! E' amico tuo! No, no, no! Ha fatto male a Mami! È la mia occasione! Aiuto! Il mio bambino! Mami! Oh no! Ti aiuto io! Afferrami le mani! Mami! Lancia starei a Mami! Forza! Vattene via! Sparisci! Devinati! Vai via! Smettila! Smettila tu! Il mio bimbo! Sono viva! Amico! Salvato Mami! È tutto ok, tranquilli! Vieni qui! Sei l'amico di mio figlio? Bambina! Grazie! Devo andarmene da qui! Eh? Ciao! Ti vedi giocare un po' con me? Oh, ciao piccoletto! E se riuscissi ad aprire questa porta per me, poi potremmo giocare assieme! Che ne dici? Pensi che possa farcela? Ma sì, certo, ovviamente! È un po' troppo alto per me! Dai, che ce la fai? Sono troppo piccolo! Ah, non preoccuparti! Mi spiace, giocatore! Ho proprio paura che rimarrò qui per sempre! Giocatore, guarda! Wow, grandissimo! Ora basta la leva, ok? Ma è durissimo! E dai! Ho paura che non uscirò mai da qui! Ci ho provato, ma mi dispiace! Grazie lo stesso per l'aiuto! Che tipo! Hai fatto del tuo meglio, bimbo! Non abbatterti! Ci penso io, ok? Devo solamente... Un pochino più forte! Perfetto! Visto? Wow, sono libero! Grazie, Kissy! Sì, brava, Kissy! È stato un lavoro di squadra! Eh? Chi è là? Ciao, ragazzi! Che state facendo qui? Oh no! Mami! Stavo solo cercando il mio bimbo! Che sta succedendo? Ciao, mami! Eccolo qui! Ciao, mami! Stavo giocando con i miei amici! Ti avevo detto di non andartene in giro! Ti comporti strana, qualcosa non va! Sei sospetta! Ma se dici che va tutto bene, prendo il bimbo e vado! Mami, ho fame! Non sta succedendo nulla, te lo giuro! Ok, andiamo! Ci vediamo, Kissy! Ciao, ciao, bimbo! Giocheremo ancora insieme! Ciao! Ciao, bimbo! Ci vediamo alla prossima! Ciao, c'è mancato poco! Kissy? Dove sei finita? Kissy? Ma dove vai? Oh, giocatore amico mio! Io devo andare! Ma, Kissy! Non lasciarmi solo! Perché non rimani e mi dai una mano? Ti va? È una cosa che devi fare da solo! Quando avrai bisogno di me, ci sarò! Ciao! Hai ragione, Kissy! Grazie! Ci vediamo! No, Cappari! Non ce la faccia davvero più! Ehi là! Finalmente! Ok, devo fare così, no? Chissà dov'è! Oh, no! Ora ti prendo! Non c'è scappo! E smettila! Dai, sbrigati! Apriti! Sì! Adoro questo gioco! Un lavoretto facile, facile! Non questa volta! E dai, devo solo darti un colfetto! No! Oh, no! Sono incastrato! Aiutami, giocatore! Ti prego! Non lo farai, Franca, questa volta! Un momento! Ragazzi, cosa credete che dovrei fare? Non lo fare! Se poi te ne fetti! Lo so, ma... Non ho scelta! Mi dispiace, Bunzo! No! Mi sto facendo malissimo! Fermalo subito! Mi arrendo! Dovrei credergli! Ok, ragazzi! Fermiamo tutto! Aio, aio! State bene, morire mie? Mi hai salvato! Sì, era la cosa giusta da fare! Ora è tutto a posto, Bunzo! Eh? Oh, no! Non dirmi che... Sono affamata! Odore di bocconcino! Dov'è? Santa paletta! Oh, che strano! Ma sei vivo? Non ho più appetito! Wow, ci hai baccato a poco! Oh, no! Mi stai inseguendo! Cavolo, ma non si stanca mai! Fortuna vuole che abbia trovato questa porta! E dai, ci devi mettere così tanto! Oh, no! Ciao, giocatore! È un sacco di tempo che non ci vediamo! Quanto tempo ci vuole? Hai fretta, per caso? Perché anch'io! Adoro questo gioco! Meno male! Sono salvo! Ciao, ciao! Ragazzo fortunato! Ok, sono spaventato a morte ora! Ed è giusto così! Perché sei mio adesso! Non dirmi che sono incastrato! E dai, forza, scastrati! Staccati, maledetta mano! Oh, no! Non lo farai! Ne sei sicuro? Beh, in effetti... No, ma che dico? Certo che lo faccio! No, no, no! Sono troppo bello per morire! Mori in silenzio! Grazie per la cena, amico! Ma se lo vuole... Ok, oh no! Papi! Dov'è papi? Tu l'hai visto? Oh no, vieni qua, piccolino! Non trovo il mio papà! Sei tu il mio papi, ora? Beh, lui non lo sa che io ho... Ok, sì, sono io il tuo papà adesso! Davvero? Sì, non saremo mai più soli! Uffa, sono di nuovo in trappola! Avrei proprio bisogno di una mano ora! Oh, quella leva sembra fatta al caso mio! Ok, mani, non traditemi proprio ora, eh! Ah! E dai che ci arrivo! Ancora un pochettino! E dai! Ci sono quasi... Ah, è troppo lontano! Devo pensarmela diversamente! Un rumore! Chi è là? Oh, Kissy! Arrivi sempre al momento giusto! Ehi, amico! Tranquillo, sono venuta per aiutarti! Sì, Kissy! Tu puoi farcela! Tu dici? Ok, allora guarda! Devo solo tirare... Devi metterci solo più muscoli, Kissy! Ma è difficile, però! Tranquilla, non agitarti! Prendi un bel respiro e riprova, ok? Di nuovo? No, non lo vedi che non ho abbastanza forza! Mi verrebbe l'ansia e poi sicuramente diventerai tristissima! Oh! So io che tipo di forza le serve! Ehi, che sì! Invece sono sicuro che puoi farcela! Davvero pensi che ne sia in grado? Credi che possa farcela per davvero? Con queste braccia! E dai, provaci di nuovo! Sono sicuro del risultato! Ok, proviamo di nuovo! Posso farcela! No, ecco, invece no! Sì, ecco, forse è un po' scivoloso! Mi so che non ce la fa, eh? Con le braccia troppo deboli! Che brutta situazione! Vedi, non ce la faccio! Aspetta, ti do una mano io! Oh, Aghi, che ci fai qui? Ci hanno venuto a dare una mano! Aghi, grazie per essere qui, amico mio! Ecco fatto! Sì, si sta aprendo! E questo è tutto! Ora possiamo andare! Andiamo! Aspettate! Ci rincontreremo presto! Va bene, ma potreste almeno... Ce l'hai fatta, Cassie! È stato fichissimo! Ragazzi, aspettate! Mi vengo con voi! Sono andati! Beh, ci vediamo, amici! E spero di rivedere anche voi, ovviamente!